Una cinquantina di appuntamenti su tutto il territorio pratese per trascorrere i mesi estivi all'insegna della cultura. L'edizione 2023 della Prato Estate scalda i motori per dare il via a un cartellone di eventi tra concerti, teatro, cinema e danza accolti in tanti scenari cittadini, dal Chiostro di San Domenico al Castello dell'Imperatore, dal Giardino Buonamici a Officina Giovani, passando da Palazzo Datini e ancora chiese, arene e giardini dei vari quartieri della città, dalla zona centrale alla periferia. Torna Prata Estate con un'anticipazione in carcere, il metro popolare assieme al Comune di Prato presenta Alessandro Fiori, poi andremo agli Ex Mascelli per una festa di due giorni con le residenze creative e poi andremo in San Domenico per teatro e musica, a Palazzo Datini, ovviamente al Castello dell'Imperatore per il cinema all'aperto e poi il Festival delle Colline e molto altro ancora, per una diffusione dello spettacolo dal vivo, come è sempre accaduto negli ultimi anni, in vari luoghi della città e non soltanto in centro storico.